ciao ciao e ben ritrovati nella mia cucina oggi una piccola ricettina bella veloce veloce la salsiccia di pollo con gli spinaci freschi io ho messo l'olio di cocco però voi potete mettere l'olio di oliva o il burro quello che diciamo che usate voi in casa dopodiché ho messo una bella cipolla tagliata a fettine e se a voi non tanto piace la cipolla mettete giusto un pezzettino magari poi lo togliete quel piattino che vedete dietro è la salsiccia di pollo che l'ho privata di pelle della pelle e dopo gliela metto diciamo insieme adesso vi lascio un po e poi ci risentiamo ciao 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 allora la salsiccia l'ho fatto un po rosolare ho messo la paprika perché a me piace piccante però voi potete anche farne a meno gli spinaci che adesso andrò a mettere sono di quelli freschi ovviamente voi li vedete già lavati e puliti quindi vanno prima puliti lavati perché questi qui che io compro sono pieni 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 di terreno dopodiché che metto gli spinaci metto soltanto il coperchio e quelli dopo 5 10 minuti già si cucinano ed è pronto un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco che dopo 10 minuti di cottura questa mini 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 ricetta è pronta. Se vi è piaciuta mettete un bel like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Mi raccomando commentate giù nei commenti e grazie per aver visto il video. Ciao ciao!